Presidente, sinteticamente che cosa emerge dalle relazioni che i dirigenti della provincia hanno preparato per rispondere alle raccomandazioni dell'ANAC? Prima di tutto che abbiamo sempre rispettato la norma, il codice degli appalti, quindi questo è da chiarire subito. Abbiamo convocato questa conferenza stampa per questo. E che i rilievi mossi dall'ANAC in merito ad artificiose parcellizzazioni degli incarichi o degli appalti sono dovuti a motivazioni di necessità, ma soprattutto per rispettare altri principi che debbono perseguirsi quando si fanno gli appalti, cioè quello della tempestività delle opere e della efficacia degli interventi. E questo noi lo abbiamo fatto ovviamente per cercare di dare immediate risposte nelle scuole e per la sicurezza delle strade. Quindi chiariremo che anche delle procedure che vengono contestate infine rispettano i criteri e i termini di legge e se sono state fatte delle decisioni sono state sempre dirette all'interesse generale della nostra comunità. Sicurezza sulle strade, interventi di messa in sicurezza e soprattutto all'interno delle scuole. Che programmazione si deve fare di un finanziamento che viene dato per una situazione emergenziale che è quella del Covid, che mi dice che io in due mesi devo appaltare e devo realizzare le opere all'interno delle scuole per l'inizio dell'anno scolastico. che bisogna programmare se non fare subito dei procedimenti, quelli più snelli possibili, sempre nel rispetto delle norme, per fare in modo che l'intervento sia efficace e tempestivo per la sicurezza dei bambini.